Niccolò Bonifazio, debuttante al Gran Premio Liberazione, le tue emozioni? Una bella gara, sono stati partecipanti agguerriti e speriamo di far bene anche oggi. Vieni da un ottimo periodo di forma, ci sei sbloccato al Pezzoni dopo i primi buoni piazzamenti d'inizio stagione, immagino sarei molto soddisfatto. Sì, sono riuscito a fare una bella volata, purtroppo le altre volate ho sempre prese dietro, questa qua è l'unica che sono riuscito a prendere davanti e speriamo di prenderla anche oggi. Siete una squadra molto giovane, punterete tutto sulla volata o avete pensato qualche diversivo? No, sinceramente no, speriamo di arrivare in volata, poi quel che viene viene, sono andranno in fuga i miei compagni e io starò fermo sicuramente. Comunque con Cigala giavamo un'ottima intesa? Sì, sì, ma ci conoscevamo già prima per via nazionale, c'è un accordo buono e speriamo di far bene anche oggi. Ok, grazie mille.